Si è svolta a Brindisi la cerimonia di fine lavori per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area micorosa all'interno del SIN di Brindisi. L'evento, organizzato da Socesi, società di ingegneria ambientale in house delle amministrazioni centrali dello Stato, ha visto la partecipazione del proprio presidente, dell'amministratore delegato Enrico Stravato, e in qualità di relatore di Enrico Bruggiotti, direttore dei complessi lavori di ingegneria ambientale, eseguiti a Brindisi e attualmente impegnato nei lavori di bonifica a Taranto. Presenti il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vanni Agava, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e la vice presidente della provincia di Brindisi Antonella Vincenti. All'evento hanno presenziato anche il vice presidente della commissione antimafia Mauro Dattis, l'amministratore delegato di Eni Rewind Paolo Grossi, l'amministratore delegato di Semataf Vincenzo Massari e il commissario straordinario delegato del sindicrotone Cassano Cerchiara di Calabria Emilio Enrico. A margine della cerimonia, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, che segue costantemente e con particolare interesse la storica problematica del sindicrotone, si è intrattenuto con il commissario Enrico per ricevere le ultime notizie riguardanti le aree contaminate, auspicando di poter raggiungere in tempi brevi senza altri impedimenti alla totale bonifica delle aree contaminate a terra e a mare. Il commissario ha voluto illustrare alla più alta carica istituzionale ambientale la situazione attuale, in continua positiva evoluzione, sottolineando l'estrema disponibilità e la leale cooperazione dimostrata in questi mesi dal Presidente della Regione Calabria, insieme ai dirigenti del Dipartimento Territorio e Ambiente, dal Presidente della provincia di Crotone, dal Sindaco del Comune Pitagorico e dai vertici di Eni Rewind. Tra pochi mesi avranno inizio i lavori di bonifiche e i successivi interventi di recupero e ripristino delle aree contaminate.